Maltempo in Liguria, trovati i corpi dei due coniugi, aperta un'inchiesta per omicidio colposo, burlando il presidente della regione Liguria, dice abbiamo bisogno subito dei soldi o altrimenti non ci tiriamo su. Per la prima volta una scuola cerignolana è in stato di sicurezza, accade al Circolo Marconi, la cerimonia un'ora e mezza fa. Riprendono gli allenamenti per le formazioni di Vallei dopo un weekend in chiaro scuro con una vittoria e due sconfitte.